Parte di nuovo, ci siamo qui, poi l'approfondiremo ancora sta faccenda. Diamo, parte Mozart, se io volessi scrivere. Se io volessi scrivere tutta la musica che ho in testa, non basterebbe tutta la carta di Vienna e le foreste dell'intera Cina, non basterebbero le orecchie tutte insieme per ascoltarla dal fondo alla cima. Via, lì facciamo un cambio, ogni volta che va a capo facciamo un cambio, poi vediamo se ci sarà un passaggio della parrucca o se lo fa uno solo. Se io volessi scrivere tutta la musica che ho in testa per raccontare un bacio su una chiappa, non basterebbero i teatri di Parigi né l'universo fuori da ogni mappa. Scusami, capito com'è? Lui scherza, continua a scherzare, anche noi appena abbiamo detto chiappa siamo messi a ridere, no? E noi dobbiamo far ridere le persone. Scusami, capito com'è? Lui scherzare, anche noi appena abbiamo detto chiappa siamo messi a ridere, e la cura tutto non va se inizia a suonare. Vorrei commissionare un lavoretto, mi pare di sentire, mi pare di sentire. Non si picca che sia ditta, se sia lontana, se sia lontana, perché porti la bonella, voi sapete quel che fa. Questa è una musicale, questa è un'opera. Questa è una musicale, questa è un'opera. Questa è una musicale, questa è un'opera. Questa è una musicale, questa è una musicale, questa è un'opera. Grazie a tutti.